1 Sì 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 toccate entrambi ma sono delle sedie quindi stanno andando in due non so conto e cosa ho uscito il compagno non che bravo questo che forte fortissimo potrei dire ma che forte fortissimo un minuto un compagno è tornato in squadra bene i rinforzi sono in arrivo un minuto un minuto per voi soldato resti solo tu sopravvivi fino al rischieramento della tua squadra un minuto un minuto un minuto un compagno è tornato in squadra bene un minuto 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 Ok Pidono nel parchetto, spaccio cocaina, faccio ulo Pidono nel parchetto, faccio ulo Occhio alle spalle, finestra di ritorno in chiusura Quadra eliminata, sopravvivi per rischierarla Ma che cazzo stavano facendo qui dentro Saldi conclusi, prezzi in aggiornamento Pidono Ritorno non disponibile, non la va o la spacca Casse di scorte rifornite, prendete quello che vi serve Grazie Grazie Gas in avvicinamento Qualcuno della tua squadra è fuori dalla zona sicura Attenzione, ritorno non più attivo Si fa sul serio Richiedo ricognizione aerea UAB di disturbo stile in volo Perdete terreno, muovetevi Attenzione, UAB in uscita dall'area operativa Raggiungete la zona sicura Ne restano dieci Abbiamo più il divinito L'impianto Pidono La strada di ritorno Pidono Checone 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 L'impianto L'impianto Pidono Quattro Mora Puenda Siete in quattro. Gatti in arrivo. Puntate alla zona sicura. C'è molta strada da fare. Siete in quattro. 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 Ai, GG. Ai, GG. GG. Troppo forte il King. Due contro tre. Era una pesca di merda. Vicente in quattro. Era un'altra cosa. Ecco. Un'altra cosa. Cadaver. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Ho capito Uh, ho 8 bombe, così non ci ho attivato Siamo quanti pronti experience Oh, 22k, gg ci sta Alla prossima Alla prossima